ciao questo è un nuovo video che il solito che faccio magari dedicato magari a qualche film che riesco a guardare che mi sono riuscito ad andare a recuperare e a vedere è un film di Stanley Kubrick che è il dottor Stranamore che come film come si dice come genere parla di guerra commedia che è un film del 64 che dura anche un'ora e mezza di film 1 ore 34 che come film due a quei 94 minuti che parla più che altro mai che che essendo mai è un film che parla mai più che altro mai di di guerra come si dice che il film magari inizia che sono in questa in questa base statunitense americana di bull person che vengono attivati dal genere dal generale riper i b52 armati con i con ordini nucleari contro contro l'unione sovietica che come si dice che in base alle modalità marei previste solo lo stesso bull person può richiamare marei i veicoli utilizzando mai un codice segreto che il generale però è un maniaco è un marei è un maniaco depressivo che nella war room la con la presenza del presidente dell'america americano degli USA deve decidere come magari come intervenire come intervenire che che la mare la trama di questo film parla più che altro ma di di questo che più che altro mai come si dice che tocca marei più che altro marei il genere marei guerra questo film qua che come come film marei che che cubri che sento marei uno un nome marei conosciuto che che volevo ma volevo marea volevo come si dice andare a recuperare certi suoi i suoi film che non avevo marei ancora che non avevo ancora riuscito marei a a vedere che che ma è che magari ho visto che magari ne compreso magari come film magari come ha fatto anche si aveva marei un po di anni marei ci poteva marei anche stare anche se io marei certi film marei di cubri che magari l'ho conosciuto magari tramite magari il film di quel film marei di maria di shining così che volevo andarmi a recuperare andarmi a recuperare andarmi a recuperare marei certi suoi vecchi film che ne ho come i film vecchi ne ho recuperati due di kubrick che per adesso voglio fare questo video su dottor stranamo e che 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 come 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 si dice che questo qua più che altro marei toccava marei più la parte marea della guerra essendo mai anche un po come film ma è un po fatto un po come come commedia però l'ho voluto tipo essendo di cubri che l'ho voluto andarlo tipo a recuperare come 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 film che marei il nome che come titolo marei del film il nome marei intero e si chiama proprio il dottor stranamo stranamo e ovvero come imperato a non preoccuparmi e ad amare e ad amare la bomba che il titolo è tutto per intero e a questo qua anche se magari molto accetto lo chiamo solamente magari per abbreviare marei il dottor stranamo e stranamo e che marei come film marei come ho detto prima marei e del 74 che 2 94 minuti che marei come al solito marei vi lascio marei sotto in descrizione marei se riesco a trovare marei il videotrailer e anche tutto il cast degli attori che hanno partecipato marei anche il film e anche marei marei la trama proprio del film che nel compresso ho visto che essendo anche se a di cubri che mi è anche mi è piaciuto come film anche se a marei un po marei un po vecchiotto e ho visto che anche ultimamente come film quei tre quei tre anni fa mi sembra nel 2020 l'avevano anche riproposto al l'avevo tipo anche riproposto al cinema rifacendo certe cose che ha stato tipo rimasterizzato e rifacendo certe cose che ha stato tipo rimasterizzato forse essendo marei la pellicola del proprio del film essendo vecchia marei gli hanno rifatto marei anche la parte magari del della dell'audio così però l'avevano tipo ultimamente l'avevano anche riproposto al cinema questo dottor in amore di cubri che è niente che che come marei come fi come film come ho detto marei prima anche se ha qualche anno non è amare così brutto e niente ma è quello che potrò mai dire su questo marei film marei l'ho già detta al massimo ci vediamo ci vediamo amore più avanti con i miei soliti video che porto sul sul mio canale marei sui fumetti o sui manga e niente per adesso marei vi saluto e ci vediamo ci vediamo amore più avanti sempre sul sul mio canale ciao 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 ciao